Sei arrivato. Permettimi di darti un consiglio. Sì, sincero. Lui sa più di quanto tu immagini. È stata una lunga attesa. Lunga ed estenuante. Ti do il benvenuto, Neo. Sono Morpheus. È un onore conoscerti. No, l'onore è mio. Prego, vieni. Immagino che in questo momento ti sentirei un po' come Alice che ruzzola dentro la tana del bianconiglio. L'esempio calza. Lo leggo nei tuoi occhi. Hai lo sguardo di un uomo che accetta quello che vede solo perché aspetta di risvegliarsi. E curiosamente non sei lontano dalla verità. Tu credi nel destino, Neo? No. Perché no? Perché non mi piace l'idea di non poter gestire la mia vita. Capisco perfettamente ciò che intendi. Adesso ti dico perché sei qui. Sei qui perché intuisci qualcosa che non riesci a spiegarti. Senti solo che c'è. È tutta la vita che hai la sensazione che ci sia qualcosa che non quadra nel mondo. Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti. È un chiodo fisso nel cervello. Da diventarci matto. È questa sensazione che ti ha portato da me. Tu sai di cosa sto parlando? Di Matrix. Ti interessa sapere di che si tratta, che cos'è? Matrix è ovunque. È intorno a noi. Anche adesso, nella stanza in cui siamo. È quello che vedi quando ti affacci alla finestra o quando accendi il televisore. L'avverti quando vai al lavoro. Quando vai in chiesa. Quando paghi le tasse. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità. Quale verità? Che tu sei uno schiavo, Neo. Come tutti gli altri sei nato in catene. Sei nato in una prigione che non ha sbarre, che non ha mura, che non ha odore. Una prigione per la tua mente. Nessuno di noi è in grado, purtroppo, di descrivere Matrix agli altri. Dovrai scoprire con i tuoi occhi che cos'è. È la tua ultima occasione. Se rinunci non ne avrai altre. Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che porrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie. e vedrai quant'è profonda la tana del bianconiglio. Ti sto offrendo solo la verità. Ricordalo. Niente di più. Seguimi.